La vostra voce è la nostra voce, le vostre segnalazioni sono le nostre battaglie. Ringraziamo i tanti, i tantissimi telespettatori che ormai ogni giorno inviano raffiche di segnalazioni alla redazione del Tg Vicenza di Rete Veneta. Riceviamo quotidianamente messaggi da parte di cittadini che documentano cosa non va e che contribuiscono con le loro idee e con le loro proposte a una città migliore. L'ultima segnalazione riguarda il parcheggio per disabili dell'Ulsotto. In corso, Santi, Felice e Fortunato a Vicenza. Ecco le foto che testimoniano come la pavimentazione lasci molto a desiderare e possa rappresentare un disagio per chi è costretto a spostarsi con la carrozzina. Persino la base della rampa per gli invalidi appare consumata con crepe e abballamenti. E questi invece sono i parcheggi riservati ai portatori di handicap che devono muoversi sui tombini e sul ghiaino. Nulla di insuperabile per carità però fa riflettere, come ci scrive giustamente il nostro telespettatore, che questa sia la sede del servizio territoriale disabili. E non si può fare a meno di notare che posteggi riservati agli invalidi in una struttura sanitaria a loro dedicata ce n'è soltanto tre. Ringraziamo il nostro telespettatore, ma non c'è bisogno di entrare nel parcheggio dell'Ulsotto per lamentarsi. Qualcosa non va proprio davanti all'accesso. In corso Santi Felice Fortunato e qui forse AIEM farebbe bene a prendere nota per l'ennesima volta. Ecco i bidoni dei rifiuti ed ecco cosa c'è per terra. Di tutto, di più. Un caso? No, una conferma. Guardate a pochi metri di distanza, sempre sullo stesso lato della strada, altri bidoni, altri rifiuti abbandonati. E se da questa parte per i pedoni il passaggio è ridotto dalla spazzatura, sul marciapiedi opposto, per passare, bisogna scavalcare questo clochard buttato per terra con le gambe lunghe. Insomma, invitiamo il comune ad attivarsi per risolvere il degrado in corso Santi Felice Fortunato. Chiediamo all'Uls di sistemare la pavimentazione del parcheggio del servizio territoriale disabili. E infine ci rivolgiamo ad AIEM. In questi mesi abbiamo raccolto tantissime foto, video, immagini, segnalazioni di sporcizia attorno ai bidoni dei rifiuti. Non è un documento, è un documentario. È tempo di dare risposte ai cittadini e tocca ad AIEM darle. Noi di Rete Veneta siamo pronti. AIEM, stiamo arrivando.